Mercoledì 23 marzo, nel giorno del compleanno di Will Byers, Stranger Things, tramite i propri canali social, ha pubblicato diverse immagini che ci svelano diversi aspetti riguardo la prossima futura quarta stagione. Queste immagini, queste foto, lasciano spazio a diversi dubbi e anche ad ampie analisi. Cosa ci fanno Nancy e Robin all'interno del manicomio Pennhurst Mental Hospital? Perché Mike, Will, Argil e Jonathan si trovano all'interno della stanza di Susie? Nel video di oggi cercheremo di analizzare queste immagini, di sviscerarle e cercare di rispondere anche alle domande che ci siamo posti, così da risolvere tutti questi dubbi che abbiamo in testa. Per chi non mi conoscesse, io sono Nick, un amante, come te, delle serie tv e pubblico su YouTube da oltre sei anni, video riguardo Stranger Things e tante altre serie tv. Se quindi ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale per non perderti neanche un video. Le immagini che sono state pubblicate ci danno modo di immergerci sempre di più in un mondo che a quanto pare sembra più fitto, più cupo di quelle che erano state le ambientazioni delle passate tre stagioni. Eravamo forse abituati a delle ambientazioni un pochettino più accese, degli ambienti più luminosi, questa volta a quanto pare Netflix e soprattutto i propri produttori di Stranger Things, ovvero i fratelli Duffer, sembra che vogliono puntare su una pellicola un po' più horror. Si viene presentato per la prima volta e quindi possiamo dare un primo sguardo a Eddie Manson, interpretato da Joseph Queen nel corso di un episodio. Nella futura quarta stagione, Eddie ci è già stato presentato come il capo dell'Aelfire Club, ovvero un gruppo di ragazzi che giocano a Dungeons & Dragons nella Hawkins High School. In questa scena infatti possiamo vedere chiaramente che Eddie sta giocando impegnato, proprio si vede che ci sta mettendo i sentimenti, in questo gioco in Dungeons & Dragons. Quindi finalmente possiamo vedere che faccia ha effettivamente Eddie. Abbiamo inoltre un'altra immagine che secondo me è spettacolare, ci apre il cuore perché finalmente vediamo Mike e Undici assieme. Con loro ci sono anche Will, Argil e Jonathan. Per molti questa immagine non rappresenta chissà cosa, ma invece mi tocca smentirvi, questa immagine è importantissima. Vedere Mike e Undici di nuovo vicini ci fa capire che condivideranno sicuramente molte scene assieme, nell'azione, nel mezzo degli episodi, della loro missione possiamo dire, ma soprattutto ci fa ben sperare che possano i due coltivare la loro relazione e anzi ampliarla, sviscerarla e rendere la ship dei Mileven ancora più affiatata e soprattutto ci daranno modo di amarla ancora di più. Quella che sembra una banale foto di un episodio racchiude dentro di sé tanto tanto altro, ricordiamoci Mike e Undici. Vediamo poi un'immagine di Nancy Robin all'interno del manicomio Pennhurst Mental Hospital con un distintivo di visitors, di ospiti, visitatori. Cosa faranno all'interno di questo manicomio? È molto probabile, visto che conosciamo uno dei personaggi che sarà all'interno, che le due ragazze siano lì per fare visita, forse fare una piccola intervista, scambiare due parole con Victor Krill, interpretato dalla stella del cinema degli anni Ottanta, Robert Tanglund. Da quanto abbiamo capito dal terzo teaser uscito nei mesi scorsi, Victor nasconde all'interno della sua memoria e anche a quanto pare all'interno della sua casa, dei ricordi e soprattutto delle informazioni importanti. Che possa Victor dare a Nancy e Robin delle importanti rivelazioni riguardo al sottosopra? Ci è stato inoltre fatto vedere uno scatto di Lucas, Max, Dustin e Erika mentre guardano in alto, probabilmente verso un dettaglio misterioso. Hanno fatto una sorta di corda con delle coperte e si accingono quindi ad arrampicarsi attraverso questa corda. Chissà dove arriveranno, oppure cosa proveranno a tirare giù? Forse proveranno ad accedere alla soffitta, alla mansarda, a una botola nel soffitto della casa Krill? Arriviamo poi ad un'altra foto con Mike, Undici e Will con degli sguardi visibilmente stupiti mentre guardano qualcosa, di non troppo grande a quanto pare, che suscita in loro dei sentimenti contrastanti, dei sentimenti di stupore ma anche di attenzione, di focus, soprattutto negli occhi di Undici. I neon sopra le loro teste e alle loro spalle e investiti gli indumenti del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown ci potrebbero suggerire che la location in cui è stata girata questa scena è la stessa della pista di pattinaggio che abbiamo visto nel corso dell'ultimo teaser. Abbiamo inoltre finalmente una foto che mi è piaciuta tantissimo dello sheriff, Jim Hopper, all'interno della prigione russa, nel Kamchatka, in uno scatto davvero ben fatto, con delle luci bellissime, un'immagine, un colore, una luminosità, un focus che a me è piaciuto tanto, proprio è un primo piano fatto bene e che ci ricorda soprattutto della grandissima qualità della fotografia, delle immagini, delle riprese di Netflix e nello specifico di Stranger Things. Un'immagine che oltre a farci sperare nella sopravvivenza di Hopper e nella sua fuga ci fa anche vedere, ci dà una dimostrazione di un altro dettaglio importante, ovvero che la qualità delle immagini sarà nuovamente eccelsa, impeccabile. Davvero contentissimo di questa immagine. Tra l'altro sembrerebbe quasi che Hopper, anche se non penso che cambierà molti indumenti, in questa foto stia attraversando quel momento che abbiamo visto nello sneak peek in cui, con un lanciafiamme, stava tentando la fuga sempre dalla prigione del Kamchatka. Sicuramente una fuga alla ricerca della sua libertà, ma anche alla ricerca di almeno almeno altre due persone. Vediamo infatti l'altro scatto con Joyce e Murray Bowman, in mezzo ad una foresta innevata in Russia, con un aereo che si è schiantato alle loro spalle. Come ci è stato anche confermato dal poster che ha rivelato la data di uscita, Hopper, Joyce e Murray saranno assieme nell'avventura nel Kamchatka, e i due aiuteranno Hopper nel favorirne la fuga. Ma saranno anche gli unici ad aiutarlo in questa impresa. Ce la faranno senza avere delle gravi perdite. Passiamo ora alla foto che ritrae Dustin, Lucas e Erika, sua sorella, che per un attimo ci fanno quasi dimenticare che questa è una serie tv anni Ottanta. Infatti a primo impatto mi verrebbe quasi da dire che i tre stiano guardando un tablet. Magari stanno facendo una videochiamata con Susie. No, Nick, questa è una serie tv anni Ottanta. Quella non è sicuramente un tablet. I tre forse sorridono perché stanno guardando una foto, forse una foto di famiglia di qualcuno di loro, o forse una foto di casa Kirill. Sicuramente hanno degli sguardi felici. Quindi no, purtroppo non stanno facendo una videochiamata con un tablet con Susie. Però Susie appare nella prossima foto, non direttamente, ma a quanto pare la crew di Argil, la crew del pulmino del pizza boy Argil, si è recata nella stanza presso la casa di Susie. Ricordiamoci che i quattro si trovano in California, o almeno all'inizio. Lo Utah, dove vive Susie, non è troppo lontana dalla California. L'immagine che vediamo infatti ritrae i quattro con, dietro di loro, la carta da parati che era presente nella stessa immagine, nella stessa scena in cui Susie si trovava mentre cantava la sua canzone Neverending Stories, mentre parlava con Dustin nella terza stagione. Inoltre passiamo a vedere il microfono con la quale ella comunicava con il ragazzo, ma ci pone un interrogativo. Perché i quattro si sono recati a casa di Susie? Cosa c'entra con le vicende che si scateneranno nella quarta stagione? Inoltre, perché hanno uno sguardo così un po' interrogatorio, uno sguardo quasi inquisitorio nei confronti della giovane ragazza? Un film? No, forse riguarda qualche persona, forse è un avvenimento successo nel passato. O ancora, l'ubicazione della casa Krill, dove si trova documenti che parlavano della vicenda nel passato. Chissà, forse si stanno documentando su cosa è successo all'interno della casa Krill. Dove si trova, oppure Victor Krill, una serie di domande che potrebbero farci trovare una soluzione che ci spiega perché i quattro stanno consultando in modo abbastanza frenetico una ricerca fatta al computer. Tra l'altro i vestiti, quella che stanno indossando nel corso di questa scena, nel corso di questa foto, la quale vengono ritratti, sono gli stessi delle immagini che erano state liccate negli scorsi mesi, anzi più di un anno fa, mentre i quattro fuggivano di corsa proprio dal Family Video Store dove lavorano Steve e Robin. La domanda è sempre la stessa, dove staranno fuggendo? Infine possiamo ammirare Steve, Eddie, Nancy e Robin che nel bel mezzo della notte stanno guardando con uno sguardo abbastanza impaurito forse. Qualcosa, non sappiamo cosa. È chiaro però che i ragazzi sono stanchi, provati, sporchi, soprattutto Steve e soprattutto impauriti. Secondo alcuni in quella foresta è stata girata una scena di una sparatoria. Cosa accadrà quindi? Cosa vedranno con i loro occhi a cadere nel corso di questa scena? Finiscono qui le immagini, ma attenzione c'è un dettaglio molto importante. Secondo alcuni queste immagini sono una sorta di screenshot, una sorta di stamp fatta a cosa? Fatta alle scene che si vedranno nel trailer ufficiale di Stranger Things 4. Mancano poco più di due mesi all'uscita della prima parte di questa stagione, quindi ci siamo con i tempi, prima o poi arriverà questo trailer, lo sappiamo. Quindi se fosse vero che queste immagini sono prese dal trailer, sappiamo che questa è un'anticipazione del trailer e quindi presto lo avremo. Ma non dico niente perché sappiamo che ormai non si capisce niente con le date. Quindi aspettiamo, ma sicuramente siamo vicini al trailer. Tra due mesi esce Stranger Things 4. Di queste immagini quali dettagli avete notato in più che io non ho detto o quali teorie fate al riguardo, scrivetemene nei commenti perché io le leggo tutte e soprattutto potrebbero essere il fulcro catalizzatore per un prossimo video di teorie su Stranger Things, mentre che aspettiamo l'uscita della quarta stagione. Per oggi è tutto, vi ricordo di lasciare un mi piace per sostenere il progetto dei video di Stranger Things e di iscrivervi se non l'avete fatto al canale per non perdervi neanche un video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!